Io penso che la squadra, come l'abbiamo vista oggi, attenta, concentrata, è quello che dobbiamo seguire questo andamento che abbiamo avuto oggi, perché oggi siamo entrati bene con la testa dall'inizio e abbiamo trovato il gol, siamo stati fortunati sicuramente, però abbiamo messo cattiveria, abbiamo messo voglia si è visto ragazzi, abbiamo fatto una delle migliori prestazioni forse. Dopo secondo tempo siamo rimasti in dieci calato un po' di energia, terza partita, però io voglio fare complimenti a tutti i miei compagni perché comunque abbiamo fatto veramente un'ottima partita, un po' delicata come era, perché comunque era una partita molto delicata questa, lo sappiamo tutti, quindi veramente brave tutti. Sicuramente è una bellissima emozione, io non ero mai stato capitano prima di quest'anno e mi fa solo piacere, mi inorgoglisce portare la fascia di questa squadra, quindi sono veramente contento. Sinceramente non abbiamo fatto ancora niente, se perdiamo e gli altri vincono siamo ancora a dove eravamo ieri, quindi non dobbiamo guardare troppo la classifica, dobbiamo vincere, sinceramente l'unica roba è questa, dobbiamo vincere, dobbiamo dare continuità, la cosa che un po' c'è mancata quest'anno se guardiamo non abbiamo mai fatto due vittorie in fila e questo sarebbe veramente il momento giusto per farla, anche sappiamo che Ascoli è una partita molto impegnativa perché loro sono, come noi, molto in forma.